È il secondo di tre incontri con altrettanti grandi autori fuori concorso. Dico fuori concorso perché questi incontri si collocano nell'iniziativa letteraria in città che come l'anno scorso prevede di portare in mediateca i romanzi che sono arrivati al concorso letteraria e quindi diventeranno dalla fine di maggio accessibili a tutti coloro che li vogliono leggere. Quest'anno abbiamo pensato di aggiungere queste possibilità, di incontrare appunto degli autori fuori concorso naturalmente ma tre importanti, importantissimi autori. Domani sarà la volta di Marcello Fois e l'appuntamento è alla Memo alle 17.30, 17.45 come ogni volta. Non dovrei fare preferenze ma devo dire che Marcello Fois è a mio avviso uno dei più grandi autori italiani di questo momento. Insomma una scrittura altissima, un autore di numerosissimi romanzi splendidi sulla sua Sardegna e non solo. Anche il 20 di maggio ci sarà un altro incontro? Sì, il 20 di maggio si chiuderà questa rassegna di incontri che si è aperta già il 28 aprile con Benedetta Tobagi e appunto si chiuderà il 20 con Laura Pariani. Questa volta noi invece abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori perché l'intento di letterari è quello di portare i libri nelle scuole e quindi ognuno di questi autori dialogherà in realtà con giovani studenti che li hanno letti e devo dire li hanno letti con grande competenza. Grazie. Grazie.